Continue tensioni con risse e aggressioni, ore e ore di attese anche per un codice verde. La situazione dei pronto soccorso negli ospedali della Campania è tutt'altro che rosea. Un problema che si estende a tutte le province. In Campania infatti servirebbero 400 medici per farli funzionare a pieno regime e in modo soprattutto efficiente. Ma siamo ben lontani dalla risoluzione di un problema che si trascina da decenni e che Milena Gabanelli nel suo datarumo sul Corriere della Sera ha tracciato in una dimensione nazionale in cui rientra pieno il problema campano. Nel 2023 l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari ha evidenziato che dei 18 milioni di accessi ai pronto soccorso ben 12 sono codici verdi che potrebbero essere gestiti dalla medicina territoriale. E qui sorge un altro problema, la carenza di medici di base che si aggiunge a quella dei camici bianchi in medicina d'urgenza, due categorie sempre meno attrattive per laureandi e specializzandi. Peraltro i medici di base sono sempre meno raggiungibili e presenti nei loro studi, ancora meno se vengono contattati telefonicamente. I pazienti, spesso disorientati, ricorrono ai pronto soccorso, che intanto sono sguarniti di personale. Un cane che si morde la coda. Un terzo problema è la lunghezza delle liste d'attesa, anche per esami banali, e di conseguenza si corre in pronto soccorso per provare ad accelerare i tempi. E questo, secondo il datarum di Gabanelli, una delle possibili soluzioni. Senza riduzione delle liste d'attesa non c'è possibilità di migliorare le condizioni dei pronto soccorso, quindi rappresentano una priorità, investendo sulle case di comunità per colmare questo limite. E allo stesso modo è necessaria una rimodulazione delle risorse necessarie sui territori, con una programmazione sanitaria corretta delle regioni, che ad oggi non c'è. Infine, gli stipendi vanno aumentati a chi lavora in reparti critici, come la medicina d'urgenza, per stimolare i più giovani a praticare questo tipo di incarichi.